Siamo a Capalbio in provincia di Grossetto, il giardino dei Tarocchi. Faremo qualche video di alcuni di questi arcani maggiori, che sono appunto gli arcani dei Tarocchi. Li abbiamo scelti in funzione del fatto che erano più semplici da mostrarvi, però troverete le istruzioni nel nostro profilo Instagram Alessandra Barbieri. Quindi a presto, trovate gli altri video per quanto riguarda le spiegazioni dei Tarocchi di questo splendido giardino che vi invito a venire a visitare. Grazie.